E' Natale, Marturano Materiale Elettrico, la nota azienda di Via Rintone vuol rivolgere un augurio ai clienti e alla città. Tanto lavoro, un anno duro, però anche un rapporto bello, diretto, familiare con il cliente. Il rapporto diretto c'è sempre, anche in questo periodo un po' negativo per via del virus e per via di tutti i problemi che abbiamo tutti, però cerchiamo di essere solidali con tutti, cercare comunque di convivere e di andare avanti. Un messaggio di speranza per questo Natale? Quello senz'altro, un messaggio di speranza c'è ogni Natale e questo Natale ancora di più, perché bisogna sperare nel futuro, sperare che sparisca tutto, sperare che tutto vada bene. Si ritorni alla normalità? Si ritorni alla normalità, cercare tutti quanti di collaborare perché tutto vada bene, perché tutto torni alla normalità. Un 2022 che dunque ci auguriamo essere diverso dal 2021? Sicuramente, il 2022 deve essere sempre più, dobbiamo andare avanti tutti quanti, noi come azienda e tutte le persone insieme a noi. D'altronde lei ha un rapporto diretto con i clienti e quindi si crea anche un rapporto proprio di familiarità. E quella forse è la cosa più bella, al di là del lavoro che comunque si lavora per guadagnare, per fare e per vivere, però contemporaneamente il rapporto sociale con i clienti, il rapporto insomma con le persone che ci vengono a trovare perché ci vogliono bene anche. Allora, come dire, ci uniamo a Marturano Materiale Elettrico per rivolgere davvero un augurio alla città, un Natale sereno in famiglia e un 2022 in cui davvero le speranze di ognuno possano diventare realtà. Mi associo a questo augurio detto in maniera perfetta. E' sentito come lo sente lei, siamo persone genuine, spontanee. Grazie e arrivederci e tanti auguri a tutti ancora.